Il dottor Frigiola, io lo chiamo più che dottore, è un professore, un professore del sorriso, un professore della generosità, ma soprattutto è un cardiochirurgo meraviglioso che riesce a fare dei miracoli. Salvare i bambini appena nati che stanno morendo tra le braccia della mamma, portarli in sala operatoria, aprire il cuoricino, operarlo e farlo ripartire è un vero miracolo. E quindi io vi presento l'uomo dei miracoli, il vero cardiochirurgo. Buonasera, buonasera dottore. Buonasera, allora siamo qui per una serata fantastica, organizzata per raccogliere fondi, per aiutare i bimbi malati di cuore in Africa in particolare, perché purtroppo in Africa non ci sono strutture e migliaia e migliaia di bambini muoiono ogni anno. Questa serata è proprio dedicata a un progetto grande che si chiama Children's Heart for Africa, cioè il progetto cuore dei bimbi in Africa, per offrire loro un'opportunità di poter essere operati. Quindi io ringrazio tutti quelli che ci seguono, ci aiutano e che sono con noi in questa grande avventura. Ecco, ci diceva il dottor Pulcini che lei è una delle persone che va più nel fronte, chiamiamolo. Io sono presidente di un'associazione che si chiama bambini cardiopatici nel mondo e da 20 anni aiutiamo i paesi in via di sviluppo, soprattutto effettuando missioni, cioè andando sul fronte e ad operare i bambini nei vari paesi, in Etiopia, in Camero, in Senegal, nello Ieme, in Kurdistan, in Iraq, in Siria, in Egitto, in Tunisia. E quindi siamo un po' in tutto il mondo.